Asponiamo a creare quello di un'opsole. Pensi di avere davvero un'opsole? Di un'idea, ci sono un'infermi di germi e batteri. Con la spugna non riluola, aprirò la strada. E a ogni passata, non riluola e sopra più. Scopri le nuove salviette igienizzanti in Apisal. La nuova soluzione per tutta la casa. Rimudono sporchi, germi e batteri in un semplice gesto. E sono biodegradabili nel rispetto dell'ambiente. Apisal, per la protezione della tua famiglia. Benvenuti, vi dicevo che abbiamo avuto l'intervista a questa ragazza che sa che esistono queste feste a Milano. E ci ha dato anche degli indizi. Peraltro, noi ce ne occuperemo. A lei non è ragunso perché siamo andati a cercare queste feste nascoste addirittura a sottoterra. Non avete idea che mondo c'è, che noi non conosciamo. Allora, vi faccio sentire questa ragazza. Voglio andare solo un attimo, velocemente, dall'avvocato. Avvocato Macri, ma io ho letto che tu, credo, abbia detto che questa ragazza andava a queste feste dove, lo sappiamo, c'erano anche molti personaggi famosi, molti VIP, ma addirittura c'erano molti professionisti famosi, tipo addirittura dei notai famosissimi. Sì, è stata fatta un po' di confusione perché è una mia dichiarazione. Abbiamo fatto delle indagini difensite dove, attraverso dei video che sono sulla rete, abbiamo identificato queste figure professionisti importanti, ma non era...